La notizia è già finita tra le mani del TG satirico di Mediaset striscia la notizia ed è stata proprio la redazione del programma di Antonio Ricci a segnalare ai carabinieri della stazione di Nicolosi una macelleria nello stesso centro Etneo dove probabilmente si vende della carne macellata illegalmente. I militari ieri infatti, con la preziosa collaborazione dei NAS di Catania, hanno ispezionato l'attività commerciale in questione, situata nella centrale vietnea riscontrando la presenza sui banchi di vendita di alcune carni come capretto, agnello e costata macellati illegalmente e marchiate con contrassegni verosimilmente falsificati. Nel deposito al servizio della macelleria sono state altresì trovate due capre ancora vive, prime di contrassegni identificative e resti di ovirini e caprini nonché attrezzi adatti alla macellazione. Le carni macellate illegalmente e il deposito con l'attrezzatura sono stati sequestrati mentre gli animali vivi sono stati affidati al servizio veterinario dell'ASP di Catania. Nei prossimi giorni sulle carni sequestrate saranno compiute analisi e accertamenti per poter stabilire la provenienza. In attesa dei provvedimenti del sindaco, l'attività commerciale è stata sospesa. In tutto sono state elevate per la parte amministrativa sanzioni per 15.000 euro. I proprietari della macelleria, due fratelli di 70 e 68 anni, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Catania.